Io mi sono iscritta alla CIS perché avevo un obiettivo, aiutare le persone che come me avevano bisogno di integrarsi nel territorio italiano e ci sono riuscita. Io mi sono iscritta con la CIS perché ho avuto dei problemi con un'azienda e grazie a loro ho risolto tutti i miei problemi. Mi sono iscritta alla CIS soprattutto perché è un sindacato che accoglie, che apre le porte, riesce a seguire tutti nella miglior dei modi. Mi sono iscritta perché nella fabbrica i delegati della FIMCIS erano sicuramente più preparati rispetto agli altri, tentavano di farmi ragionare spiegandomi le cose e non convincendomi soltanto con degli slogan, delle frasi fatte. Io mi sono iscritta alla CIS perché volevo rappresentare delle idee e cambiare le cose per come le vedevo nel mondo del lavoro. Mi sono iscritta alla CIS e ho trovato la rappresentanza, ho trovato la strada, i percorsi per poterlo fare. Iscriversi alla CIS per conoscere i propri diritti, riuscire a tutelarsi e riuscire ad aiutare anche gli altri a conoscere quali sono i limiti da poter non varcare per quanto riguarda la conoscenza delle leggi e i propri diritti. Perché iscriversi alla CIS? Perché la CIS è un sindacato che apre le occhi sui diritti e i doveri della persona, ti informa sulle leggi nuove. Quando esci dalla CIS si è soddisfatto perché tutte le domande che ti aspettavo sono risolte. Iscriversi alla CIS perché dà tutela ai lavoratori, dà una sicurezza, una garanzia e soprattutto l'essere vicino alla persona sia sui luoghi di lavoro e sia nell'aspetto, diciamo, professionale. Iscriversi alla CIS, a distanza di anni posso dire che il mondo del lavoro è un sistema in continuo cambiamento e quindi poter partecipare ognuno nel suo piccolo e nel suo ruolo a questo cambiamento mi dà un senso di aggregazione e di partecipazione. Il CIS la vedo più come acronimo di Cambiamo Insieme il Sistema Lavoro. Iscriversi alla CIS.